A meno 6 dal Milan c'è invece l'Udinese di Guidolin che continua a vincere, trova un gol bellissimo di Inler al volo dopo il colpo di testa a liberare l'area di rigore di Spolli, 1-0 battuto a Ndukar, nel secondo tempo fallo di Marchese su Sanchez dal dischetto, va di Natale, segna il 127esimo gol in Serie A.